L'argomento degli integratori alimentari è un argomento estremamente dibattuto in ambito medico e in ambito sportivo. Normalmente l'approccio della medicina nei confronti dell'integrazione alimentare è estremamente prudenziale. Si sente dire spessissimo che se una persona segue un'alimentazione varia e con alimenti genuini e naturali, normalmente non sarebbe necessario seguire e attuare un'integrazione alimentare specifica. Se parzialmente questo concetto potrebbe essere vero, in pratica diventa difficile attuarlo. Questo perché per poter far ciò, in effetti, bisognerebbe assumere per esempio una quantità notevolissima di frutta e verdura e soprattutto di origine biologica. Credo che nessuno di noi arrivi a consumare quelle 5 o almeno pochi di noi, quelle 5-7 porzioni tra frutta e verdura che dovrebbero essere necessarie per avere un buon contenuto vitaminico e minerale necessario per tutelare la salute. Di conseguenza, spesso esistono delle latente di carenze vitaminiche e minerali. Una fra tutte è per esempio la carenza della vitamina D, che non è legata solo all'alimentazione, ma è legata per esempio all'esposizione ai raggi del sole. Di conseguenza, per poter ovviare a questa carenza, è necessario assumere la vitamina D come integratore. Gli esempi potrebbero continuare quasi all'infinito. Per non parlare poi degli sportivi, gli sportivi non sono paragonabili alle persone normali, sono persone che sottopongono l'organismo a un'usura particolare, a uno stress psicofisico. E come una macchina da corsa ha bisogno di un additivo particolare, di un olio particolare, se non addirittura di una benzina particolare, gli sportivi hanno bisogno di un'alimentazione particolare e anche degli integratori alimentari, per poter integrare quello che è perso e anche per poter eventualmente dare un'integrazione che possa migliorare la performance. E di fatti l'uso degli integratori si può proprio suddividere in due categorie, l'integratore che serve a sopperire le carenze, ma anche l'integratore che è usato in maniera ovviamente corretta e sotto controllo medico, possa favorire certe vie metaboliche e favorire quindi determinate prestazioni dell'organismo, come quelle necessarie per una performance sportiva.